Torino 2 sotto esame, Zazza e Soriano nel 4-3-2-1 Granata, il sud tiro dell'ex Zanetti, nono nel girone B della Lega Pro vuole continuare il sogno in Coppa Italia, partita sotto ritmo, gli altotesini ben messi in campo chiudono tutti gli spazi, al ventiquattresimo Zazza di ginocchio serve Soriano, il tiro deviato da Casale finisce in rete, vantaggio fortuito e fortunoso del Torino, prima rete in Granata dell'ex Villareal. Al trentunesimo minuto Edera chiama Offredi alla respinta ravvicinata, il sud tiro si perde nelle conclusioni, il capitano Finch, migliore dei biancorossi, non trova la porta. Cartaglino giallo per simulazione a Costantino nel finale del tempo, nella ripresa al ventottesimo gol annullato agli ospiti per fuorigioco dello stesso autore, Mazzocchi proteste biancorosse. Al trentaseiesimo bella combinazione in velocità tra Berenguer ed Edera per il 2-0 finale del Torino, la squadra di Mazzari si qualifica per gli ottavi dove affronterà la Fiorentina, sud tiro il che esce di scena con qualche rimpianto.